Mancavano soltanto i crismi dell'ufficialità puntualmente giunti in mattinata. Nicola Turi è un nuovo calciatore del Taranto. Classe 98, il tersino destro era svincolato dopo la parentesi di Foggia, ma in carriera vanta diverse esperienze in compagini pugliesi. Cresciuto nelle giovanili del Bari, il club bianco-rosso lo manda in prestito al Vicenza, poi nel 2018 fa rientro nella sua città natale, ma in concomitanza della mancata iscrizione in Serie B della compagine del capologo pugliese, rimane svincolato. A ottobre 2018 si accasa proprio al Bari, decidendo di ripartire dalla Serie D. A fine anno conquisterà la promozione in C alla corte di Cornacchini, poi per lui le parentesi da prima di Bisceglie e per ultima di Foggia. Turi farà immediatamente parte della lista andando a occupare lo slot lasciato libero dei Taleng, trasferitosi all'ecco dopo aver fatto ritorno all'Atalanta. Nelle prossime ore si potrebbe tentare l'assalto decisivo per un esterno destro offensivo, Sarno e Piccolo, i nomi più gettonati, a patto però che Pacilli rescinda.